Arrivano nuove regole per la ricostruzione, perché cambia la mappa delle zone a forte rischio sismico, dove non si potrà procedere con la ricostruzione sul posto degli edifici danneggiati dal terremoto del 2016. Regole che arrivano al termine della conclusione di uno studio tecnico sulle faglie attive e capaci. Sotto osservazione c'è il comune di Pizzoli, nell'Aquilano, dove in base a queste risultanze si dovranno spostare edifici in aree troppo a rischio, ma nell'Aquilano la porzione interessata è abbastanza ampia. Il commissario Guido Castelli ha spiegato che grazie a questo studio, che è un primato in Italia, si ha una conoscenza approfondita del territorio e si sa dove delocalizzare per motivi di sicurezza. Nello studio è stata coinvolta anche l'Università dell'Aquila. Castelli ha aggiunto che ora ci si dovrà occupare delle criticità emerse a Norcia, Pizzoli e Rieti, e in particolare ci si dovrà occupare e capire come affrontare il discorso di quegli edifici agibili ma in aree pericolose. E proprio su questo il sindaco del popoloso comune ha delle perplessità, perché gli edifici agibili in zona a rischio nel comune di Pizzoli sono almeno una cinquantina e ad oggi non c'è nessuna norma. Delle faglie che sono state individuate e che rappresentano un grande pericolo possano essere tutti trattati come se fossero stati effettivamente danneggiati dal sisma e quindi poter essere delocalizzati e portati in zone più sicure. Se questo non dovesse avvenire rimane per le persone che abitano in questi edifici il rischio e il pericolo che in caso di sisma possano subire gravi danni e lesioni personali. Quindi io ritengo che l'argomento debba essere affrontato insieme agli enti locali e pianificato un percorso che dia garanzia a tutti e soprattutto la sicurezza per quei cittadini che oggi sanno di trovarsi in una posizione molto pericolosa e che non sanno però come poter affrontare e risolvere il loro problema.